Per una volta ciao ragazzi e benvenuti nello speciale dei 500.000 iscritti Per questo traguardo così importante ho deciso di fare qualcosa di veramente incredibile E sono sicuro che questo video valga 100.000 mi piace Se ci arriveremo vi pubblicherò il backstage di questa giornata epica Siamo andati al Paintball Extreme di Napoli a spararci proiettili di vernice e granate fumogene Io mi sono anche vestito da coniglio gigante per giocare a nascondino con il mostro da solo contro tutti Vi lascio al video ragazzi è qualcosa di assurdo Buona visione Dobbiamo avvicinarci Aiuto ma perché mi persagliano a me? Andiamo a prendere la partita Aiuto Oddio l'ho presa C'è uno là Bastardo Mori Devi subì Che c'hai? Cosa c'hai amico? Cosa c'hai? Stai bene? Chi ti attacca? Sanno di qua Attacca Ma dobbiamo attaccare Andate 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 Oh madonna Cosa dobbiamo fare? Vai Mario ti costa Spalla dal buco Spalla dal buco Secondo me E' il momento E' il momento E' sì Ma non oscura Il fumogeno non oscura DG facciamogliela E' morto? Sì Come facciamo a tirarla? Deve bisogno il stacco L'ho tirata la granata Sta qua Guarda Oh ribassato Mori Vai DG Cattivo Dobbiamo tirare la bandiera Dov'è Mario? Ah Quelli sparano sotto copertura Ragazzi c'è bisogno di un piano C'è bisogno di un cazzo di piano Cosa facciamo? Allora Sì Aquila verde Siamo bloccati Cazzo è questo? Facciamo un'esca Vai DG Vai Questa maschera fa un po' sudare Sì c'è un camper Ciao Anzi guarda Forza Aiuto Oh mio Dio ma io non sono partito Aiuto Mario Che cazzo stanno a fa' Aiuto Mario siamo fottuti Sì cazzo stanno a fariamo Sì cazzo stanno a sinistra Ok Hai pensato? Tre Va bene Due Sinistra è quella di Sì Uno Vai Vai Ok Qua è buono Vedo un bastardo Ma dove? Quando mai la No sei un Ti sparo nel culo Mario DG Ah no Sono sotto fuoco Aiuto Mario è lì Mario Aiuto Mario Dai facciamo così No no Vediamo la coniglia o no perché fa caldo Ma poi non Dai Saresti Saresti A me Ammettilo Ti fa più 200.000 iscritti Non vuoi farlo Ti sapessi da con lenzuolo per 2.000 Dai Coniglio Coniglio Che falle Coniglio Qua la faccio così La preparazione del nostro coniglio ecco Eh mi sento molto molto Piero di essere il coniglio Lassano è la manica del coniglio Qua la faccio così Ah Bastardi Ora va a metterlo sto il cazzo Mi massacro Dove siete? Eh Forza Il coniglio sta arrivando Una Sei preso? Stai scappando Eh Due Ciao Anna Mario Il coniglio sta arrivando Per Stefano Altro che nascondino con i mostri Dove sei? Il fumogeno ha preso fuoco Stefano 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 è uscito Non ti ho sparato perché siamo vicini Ma sei fottuta perché hai fatto incazzare il coniglio pasquale Esci fuori Vai Il coniglio ha vinto? Madonna il coniglio Ah però Ciao a tutti Grazie a tutti.